il fascino della notte è il fascino di verona che cos'è questa salsa? questa è la peh ara, pane, midollo e tanto pepe, la salsa che accompagna il bollito qui a verona grandissima, la si fa solo qui subito questa è pornografia culinaria girando per le strade di verona ci sono un sacco di sogni che si potrebbero avverare abbiamo visto inquadrato alberto che con il bonus aziendale sta per comprare questa macchina una giulia russa quadrifoglio verdissimo alfa è ovviamente buonasera verona qui a verona dante e shakespeare se la giocano siamo a verona per la fiera dell'alis l'associazione della logistica intermodale sostenibile siamo arrivati al lato più umanitario della fiera quello che più ha un cuore e qui sto filmando l'associazione amazi che è un'associazione di palermo nata anche dalla spinta di un parroco locale che proviene dal burundi con l'idea di portare acqua nel burundi in questo paese africano dove ce n'è bisogno e nel giro di cinque anni sono riusciti a costruire un acquedotto con donazioni spontanee che vengono da palermo e hanno portato un gesto di solidarietà oltremare amaz significa acqua e questi sono alcuni dei prodotti alimentari o alcuni dei prodotti fatti all'uncinetto da mani sapienti palermitane per poter donare acqua al burundi questa è la generazione moderna della vulcanizzazione è una ditta italiana che ricicla pneumatici per camion vecchi e li trasforma in pneumatici nuovi quindi c'è l'ottanta per cento della gomma dello pneumatico vecchio riciclato sul quale viene applicato un nuovo battistrada una nuova spalla quindi meno consumo di gomme e di risorse complimenti per queste idee in fiera sono presenti anche marina militare e tutti i reparti della difesa e c'è sia un marinaio possiamo chiamarlo così e sia un carabiniere che è entrato a far parte del gruppo paralimpico della difesa e lui si esprime attraverso la vela e c'è un progetto lo spirito di stella oppure wheels on waves che è costituito da un catamarano accessibile a tutti senza barriere architettoniche che in questo momento sta facendo il giro del mondo una impresa natica senza precedenti che vede a bordo militari e civili con disabilità quindi Questo modellino è Livetall Rigitec, quindi sarà uno dei nostri partner con i quali andremo a fare formazione, spero di poter andare in Svizzera in azienda a visitarli, il drone che qui è rappresentato in scala è molto grande, ha un'apertura alare di circa 3 metri, è capace di portare 3 kg e volare per 100 km. Il nostro pilota Gennaro che fa volare il drone Rigitec. Io ti posso dire qual è la sfida dell'Unione Europea, perché io rappresento per quanto riguarda l'area del Golfo tutti e 27 gli stati membri dell'Unione Europea e su quello stiamo cercando di lavorare sulla sostenibilità su tanti fronti. C'è l'idrogeno, ci sono le energie rinnovabili come quella solare, quella eolica, lo sviluppo delle tecnologie. La cosa più importante è investire nella formazione, nello sviluppo di nuove tecnologie e quindi tutto il mondo dell'università, della scuola è fondamentale. Noi bambini riusciremo a salvarci? Ah, sicuramente, perché se sono tutti come te sicuramente ce la farete. Il rango di altri paesi europei e l'obiettivo, come abbiamo detto, è difendere la libertà di navigazione, blocco occidentale o che non sono legate al sostegno di Israele. Ed è per questo che questa missione, sul breve termine, è molto importante valorizzare l'aspetto tecnologico, ma se questa tecnologia non è rispettosa dell'ambiente e di temi sociali, ovviamente su questo pianeta la vita non sarà più possibile. Sta nascendo una collaborazione tra Alice e i carabinieri, per cui noi porteremo un defibrillatore ai carabinieri che presteranno un primo soccorso a una persona con un attacco cardiaco. Speriamo che vada tutto bene. Speriamo che vada tutto bene. Gennaro, noi siamo qui con Unmanned for You per una dimostrazione, un piccolo volo con il nostro ormai vecchio amico, il drone Matrix, questa volta montato con il sensore. Ma Unmanned for You, che significa mezzi senza equipaggio per voi, sono davvero senza equipaggio questi mezzi? O sei tu il cuore pulsante del mezzo, il pilota che lo controlla? Ma diciamo concettualmente senza equipaggio a bordo. E' chiaro che aziende e operatori come Unmanned hanno bisogno di veri e propri crew, un sistema organizzativo molto compatibile a quello delle compagnie aeree. Quindi c'è chi si ad esempio adopera affinché si riescano a prendere tutti quelli che sono i diritti e i permissi per poter andare a fare determinate operazioni di volo, chi ne pianifica i dettagli operativi, chi ne controlla le condizioni ad esempio meteorologiche. Questa mattina per esempio prima di andare in volo abbiamo letto quello che è il meter dell'aeroporto più vicino per capire istantaneamente che tipo di tempo fa e il taffo per capire durante la giornata che tipo di condizioni climatiche troveremo e quindi verificare che il tutto sia conforme al manuale d'uso dell'oggetto. Senti ma se per caso questo video fosse guardato da qualche giovane pilota che ha già una certificazione, un aspirante pilota in via di certificazione, a noi dispiacerebbe se ci mandassero un curriculum? Assolutamente no, fortunatamente abbiamo molti clienti e tanti progetti da dover andare a sviluppare e inevitabilmente servono piloti, quindi lo staff che è necessario per poter garantire determinate operazioni di natura complesse o anche specifiche non si limita unicamente ai piloti ma quelli sono fondamentali, ma è necessario avere anche dei conoscitori della materia aeronautica, dei tecnici, persone anche che siano capaci di interlocuire con le istituzioni per avere i permessi necessari. So give us a call, fateci una chiamata. Vorrei ringraziare Gennaro, il pilota del nostro drone e i carabinieri che mi hanno letteralmente salvato la vita. Siamo con Francesco Magallo della Panasonic, lui si occupa di hardware rugged, quindi dispositivi particolarmente robusti e io ne sto reggendo uno, quindi è un vero e proprio computer con processore A5 e sistemi Microsoft, quindi Windows e Francesco sta reggendo il controller di uno SkyDrone che è di per sé piuttosto robusto e quindi stiamo facendo un gemellaggio, un networking aziendale e di hardware. Assolutamente sì, è molto interessante vedere le vostre soluzioni, capiamo insomma se ci possono essere degli ambiti di applicazioni come i nostri device rugged, quello che reggeva giustamente in mano è un FZ-G2 che è il tablet 10 pollici che è un po' l'entry level della gamma di Panasonic Toughbook. Quindi nel caso della Panasonic possiamo lasciarlo cadere sicuri di ritrovarlo intatto? Assolutamente sì, l'abbiamo già fatto prima, quindi se vuoi lo puoi anche filmare, non è un problema. Camion usciti dritti dritti dalla Dakar 2024 dell'Eveco. Questa è Petra, una ditta con una flotta di autotrasporti alimentata all'80% a metano ma loro hanno anche una collaborazione con Iveco come produttori, motivo per cui i camion della Dakar sono qui. Questo alla mia sinistra è arrivato sedicesimo assoluto, questo alla mia destra è arrivato settimo ma il guidatore aveva più esperienza. I droni non sono gli unici veicoli elettrici presenti in fiera, la VEM è presente con un veicolo elettrico cargo capacità di portata 5-600 kg, autonomia fino a 300 km e tempi di ricarica con batteria da 16 kW due ore e mezza con batteria da 33 kW cinque ore. Io immagino un'applicazione su delle isole come Procida, come Mykonos o come Ibiza. C'è anche il tre ruote. Spero che vi siano piaciuti i video da Verona e se è così iscrivetevi al canale. Ciao alla prossima!